Buongiorno a tutti e bentornati. Sono sparito per un bel po', vi ho lasciato con un video che ha suscitato un sacco di commenti e sono tornato. Oggi vi racconto come è andata. L'ho detto mille volte nell'introduzione, sono stato obeso per metà della mia vita, 20 anni. Due anni fa sono stato operato di chirurgia bariatrica, ho fatto una sleeve e da allora ho battuto l'obesità. Ho risolto il diabete, ho risolto l'ipertensione, ho risolto le apne notturne, ho risolto il fegato grasso e ho risolto un sacco di altri problemi. In più ho imparato ad affrontare la mia vita e il mio modo di fare con degli occhi diversi, grazie al percorso che ho fatto insieme alla sleeve. Supporta questo mio progetto, iscriviti al canale e condividi il più possibile questi video. Ringrazio davvero tutti perché con i vostri messaggi mi avete fatto sentire il vostro calore, mi avete veramente fatto sentire caldo e mi hanno aiutato un sacco. Rispondo ad alcuni dei commenti e alcune delle domande che sono state più calde e più gettonate. Allora innanzitutto no, quello che mi è successo non è assolutamente legato all'intervento di sleeve, non c'entra niente. E no, non sono depresso. Che cos'è che è successo realmente? È successo che a un certo punto ho affrontato la mia Kobayashi Maru. Cioè i nerd, i più nerd sapranno di cosa sto parlando, però sono quelle prove che la vita ti mette davanti dove non hai una soluzione di successo. Qualunque cosa tu scegli ti porta comunque a una sconfitta. Ovviamente tipicamente queste cose vengono da fuori di te le si subiscono perché chi e cosa ha intorno ti mette dei paletti e dei limiti molto forti e quindi i gradi di libertà per poter affrontare questi problemi e per poterne uscire in qualche modo si riducono talmente tanto che alla fine ti trovi a dover scegliere il male minore. Io ho dovuto abbracciare il fatto di dover rinnegare dei principi con cui sono stato cresciuto, in cui ho creduto per tutta la mia vita e per cui ho impostato il mio modo di vivere per tutta la mia vita e che credo tuttora che siano assolutamente giusti e corretti. Quindi ho dovuto fare una scelta che da una parte mi ha liberato da una situazione di angoscia. Spero che mi liberi da una situazione di angoscia perché i giochi non si sono ancora chiusi ma spero che a breve si chiudano. Ma ho dovuto rinunciare a qualcosa di veramente grande in cui credo. Non è stato per niente facile perché questa cosa mi ha messo alla prova in modi veramente radicali. Sono stato male perché non volevo piegarmi, non volevo arrendermi a questa, chiamiamola sconfitta, anche se in realtà forse alla fine di tutto si trasformeranno in una vittoria. E anche il mio corpo ha cercato in tutti i modi di farmi capire che non andava bene la strada che stavo seguendo. Il risultato è stato bruciore di stomaco che sono ovviamente legato allo stress, non riuscire a dormire la notte perché è occupato a pensare a come affrontare il problema, a trovare una soluzione che ancora non avevo vagliato, a farsi venire un'idea nuova, a pensare out of the box, come dicono gli anglofoni. E' talmente stressato che qualche giorno fa addirittura, anzi sono talmente stressato, che qualche giorno fa addirittura strato talmente tanto i denti che ho spezzato un dente, che poi mi ha fatto migliare un ascesso, per cui ho passato il weekend con una faccia gonfia come un pallone da basket e poi grazie ad antibiotico eccetera eccetera adesso va meglio, anche se un po' ancora gonfia. Per ogni conquista bisogna mettere in conto che a volte, spesso o forse addirittura sempre, c'è di mezzo una rinuncia. Io credo a questo punto di aver abbracciato questa rinuncia a cui sono costretto a mio malgrado e la vita va avanti. Sarà sicuramente una ferita che mi porterò dentro per sempre, probabilmente più avanti nella vita mi guarderò indietro e magari riguarderò questo video per ricordarmi che ho comunque fatto quello che era il minore dei mali e quello che comunque mi è sembrata la scelta migliore viste le condizioni a contorno e la vita va avanti. Non avrei mai voluto arrivare a questo punto però ci sono arrivato. La cosa importante, il motivo per cui ho fatto l'ultimo video, fondamentalmente erano due, uno dire che stavo latitando perché ero un po' incasinato e l'altro per dare una bella notizia, cioè che in un momento di down storico, in un momento di veramente di grande difficoltà come ne capitano pochi nella vita. Io credo di averne vissuti fondamentalmente tre di questi momenti in cui rimetti in gioco tutto quello che hai e riparti un po' da zero, nel senso che rimetti tutto in prospettiva e ricostruisci tutto perché c'è un foglio bianco davanti. Credo di averne avuti tre e credo che questo sia quello che ho gestito meglio e soprattutto, visto che evidentemente il tallone ad Achille di un obeso, ex obeso, è andarsi a rifugiare nel cibo, quello che volevo dire era wow, grazie al percorso che ho fatto con la sleeve ho affrontato tutto questo in un modo diverso, in un modo nuovo, migliore o peggiore? Boh, allora, magari sarebbe stato meglio farsi tre giorni a mangiare, che ne so, non mi viene in mente qualcosa, tiramisù, cioccolato, pizzoccheri, non so cosa e non spezzarsi un dente. Sì, forse sarebbe stato meglio, però non ho usato il cibo. Non sono stato vittima di fame emotiva. Oh, questo è qualcosa di grandioso, secondo me. Ovviamente non è che tutto questo in cui sono stato si è risolto in qualche settimana, nel senso che è qualcosa che ha radici molto più indietro, perché dapprima ho gestito pian pianino, dapprima è venuto crescendo piano piano, finché è arrivato a un picco e quando è arrivato al picco sono stato costretto veramente a prendere il toro per le corna, fare quelle decisioni che erano così difficili, prenderle e oggi sono sicuramente in una fase migliorativa. Perché parlavo dello psicologo? Perché lo psicologo, per mia esperienza, per come io l'ho vissuto tutte le volte che ci sono andato, è stato un acceleratore pazzesco. Non mi ha dato delle soluzioni e non andavo per cercare delle soluzioni, ma mi ha dato gli stimoli necessari per indirizzare il pensiero, indirizzare il ragionamento, indirizzare tutto quello che stavo vivendo in una strada costruttiva, per arrivare poi a trovare la mia soluzione. Quindi, dicevo, sarebbe stato il momento giusto di andarci, perché quello era il momento di pigiare sull'acceleratore per andare il più in fretta possibile verso quello che veniva dopo. Perché ogni crisi si supera, o quantomeno io so, per come sono fatto, per come ho vissuto la mia vita, per come mi piace vivere, che io sono fatto per risolvere i problemi. Tu sei Jimmy, giusto? È casa tua? Sì, proprio così. Sono il signor Wolf, risolvo problemi. Bene, ne abbiamo uno. Anche il lavoro che faccio, fondamentalmente, è risolvere i problemi. E più i problemi sono articolati, difficili, più mi stimola. Certo, ce ne sono alcuni che si vorrebbe evitare di dover affrontare, però non mi hanno mai fatto paura i problemi. Io, di fronte ai problemi, mi attivo per trovare soluzioni. Mi piace. È il mio carburante. Mi fa sentire vivo. Lì avrei avuto bisogno di questa accelerazione, perché arrancavo. Perché poi, se vogliamo citare un'altra frase presa da un film, è stata la tempesta perfetta, perché su questo momento critico in cui ho dovuto fare delle scelte di cui non sono completamente contento, ma che reputo essere la miglior soluzione, si sono incastrati tutta una serie di altri problemi della vita di tutti i giorni, preoccupazioni economiche, mi sembra di averne già parlato, ma anche semplicemente poco, pochissimo tempo libero, perché è partito un nuovo progetto di lavoro che mi sta richiedendo di dedicarmi ben oltre le otto ore quotidiane di lavoro. Ben oltre. E questo vuol dire che arrivavo al momento del tempo libero di poter pensare alle mie cose che ero stanco, stravolto e frustrato. Frustrato perché in una giornata non riuscivo a farci stare dentro tutte le cose che avrei voluto farci stare dentro. Il dovere era il lavoro, perché è vero che non sono più dipendente dal cibo, è vero che non sono più vittima della fame emotiva, però mettere in tavola il pane per la famiglia è ancora una cosa che mi piace fare, quindi il lavoro è una cosa importante e bisogna rispettarlo e metterci tutti noi stessi. Però mi mancava tutto il resto, il tempo con la famiglia, il tempo con mia moglie, il tempo libero per cazzeggiare, il tempo per far galleggiare la testa nei pensieri e valutare tutte le soluzioni, perché non è che ci metti dieci minuti. Insomma, tutto insieme, tutto nello stesso momento ci sono stati dei giorni in cui non vedevo la fine della tempesta. Risolvevi un problema e ne arrivavano altri due, e porco Giuda. Ne risolvevi due e ne arrivavano cinque, e sembrava di non venirne fuori. Per fortuna io ho questa indole, ho questo modo di fare, di affrontare le cose per cui non mi scoraggio, e anche quando è tutto buio, pesto, tremendo, ho imparato che è buio, pesto e tremendo semplicemente perché sono stanco, perché sono provato. E quello che devo fare è lasciare andare qualcosa, le cose meno importanti, vadano come vadano, recuperare un po' di forza, un po' di energia, e ripartire. Perché ce la posso fare. Ho questa fiducia in me, ho questa consapevolezza, non è neanche fiducia, è consapevolezza. E questo mi aiuta, e mi ha aiutato nella vita mille, mille, mille volte. Ma non significa che non si sta di merda. Quindi grazie veramente a tutti voi, per il vostro affetto, il vostro calore. Ci sono ancora tanti messaggi che non sono riuscito a leggere, perché non ho avuto il tempo, non è questione di tempo vero e proprio. Non ho avuto il tempo di qualità. Perché per aprire un messaggio e leggerlo a 200 all'ora, il tempo è ovvio che lo trovi. Ma per leggerlo dedicandogli la giusta attenzione, che merita, e per poter rispondere con la giusta attenzione dovuta, perché è meritata, perché è bella, perché è giusto, ci vuole un tempo di una qualità differente. E spero di recuperare presto tutto questo tempo, spero di recuperare presto tutti i messaggi, poter rispondere a tutti, anche se sappiate, vi ringrazio tutti davvero tanto. Non ho nessuna intenzione di smettervi di fare i video, sono onestamente in grandissima difficoltà per conciliare i tempi. Spero anche che questo tsunami lavorativo finisca presto, perché concepisco di lavorare 10-12 ore al giorno per anni. Può essere un periodo, può essere un'emergenza, ma deve essere un tempo finito. E quindi sono qua a rimettermi in piedi, a rimettermi in gioco, addiovi di nuovo, grazie, e lasciatemi i vostri commenti, le vostre domande, se c'è qualcosa che vi interessa, e io ringrazio assolutamente tutti voi, tutte le persone che mi hanno lasciato i super grazie, che aiutano questo canale, e sono Michele, Chiara, Ilaria, Anna, Paolo, e do anche benvenuto a due nuovi membri abbonati al canale, Vale e Michela. Il vostro aiuto serve a mantenere il canale vivo. Ho dei progetti per il futuro di questo canale, ho tante cose che voglio fare, e devo solo trovare il tempo e il modo di farle bene. Grazie ancora per aver visto questo video, ci vediamo prestissimo. Ricordatevi di iscrivervi al canale, condividete tutti i video, perché magari qualcuno da qualche parte potrebbe averne bisogno. Grazie a tutti, un abbraccio enorme. Ciao e buona giornata.